Sai cantare e hai sempre sognato di andare in tv? Hai talento? Se la musica è la tua passione, il Festival della Sardegna e la tv regionale 5 Stelle Sardegna ti offrono la possibilità di realizzare il tuo sogno. Partecipa ai provini che si svolgeranno negli studi televisivi il prossimo maggio. Per iscriverti alle audizioni visita il sito www.ilfestivaldellasardegna.it o chiama al 334 81 18 624. Dai una chance al tuo talento! Grazie a tutti!